vi state cacando ad osso e vi state cacando nelle mutande dopo che avete visto la miniatura maldini spaventa attenzione volete sapere perché volete sapere cosa ha detto adesso ve lo spiego stiamo calmi adesso ve lo spiego oggi ancora martedì ce n'è di tempo andiamo a parlare anche della partita della prima vittoria della stagione dei rossoneri partita sofferta ma l'importante era portare a casa il risultato abbiamo visto un bel milan a tratti adesso andiamo a parlare intanto iscrivetevi al canale avete 14 secondi di tempo adesso faccio partire la sigla e intanto iscrivetevi al canale AC Milan forza lotta vincerai non ti lasceremo mai non ti lasceremo mai di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi non vi lasceremo mai non vi lasceremo mai AC Milan forza lotta vincerai non ti lasceremo non sta sul telefono oggi maledetto ma va fan oh sta su bestia sta su bestia eccolo qua buongiorno a tutti fratelli rossoneri buon martedì oggi si ieri abbiamo giocato buon martedì a tutti buon martedì rossonero spero che vi siete goduti la prima vittoria dei nostri ragazzi anche se ieri ho visto che qualche d'uno non è rimasto contento del milan e vinciamo e non va bene e perdiamo e non va bene ma che cazzo dovevano fare questi ragazzi ma dovete essere contenti sofferta ma abbiamo vinto era importantissimo vincere ieri per partire forti anche per una questione di mentalità ragazzi era importante portare a casa i tre punti per non rimanere già indietro per andare comunque lì in alto siamo primi siamo primi siamo primi siamo primi è la prima giornata siamo primi però ragazzi era importantissimo ci voleva anche una questione di testa è un milan ancora in rodaggio ragazzi chiamiamolo così è la prima giornata nel secondo tempo si è visto un po' di fatica e siamo andati a Genova contro una Sampdoria che non è sempre facile affrontare la Sampdoria avevamo delle defezioni importanti mancava il centro cammino titolare mancava benassero mancava che si e adesso andiamo a parlare di che si perché ieri Maldini ha parlato e ha spaventato i tifosi mancava Zlatan Ibrahimovic però ragazzi un bel milan a tratti ma un bel milan soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto vedere anche un bel gioco sempre a tratti ma abbiamo fatto vedere un bel gioco io sono rimasto molto molto contento un maignan che ragazzi se si schilava la maglia ieri aveva la S di Superman un magic maignan incredibile io sono quando abbiamo rischiato un po' ieri perché abbiamo rischiato però mi dà sicurezza vi dico la verità mi dà sicurezza sta comunque facendo vedere che è forte non ha paura di nessuno si prende anche ogni tanto vabbè deve un po' lavorare con i piedi perché quando è uscito nel primo tempo quando ha preso palla ed è uscito meno male che poi gli hanno fatto farlo perché lì mi stavo cagando addosso però ragazzi tanta tanta roba nel frattempo che quella merda di Donnarumma fa la panchina sta prendendo le orme di suo fratello maggiore a fare il panchinaro noi ci godiamo il nostro maignan e che dobbiamo dire di Davidino Calabria una splendida partita assist al gol di Brian Diaz il folletto pazzo il folletto pazzo Brian Diaz saponetta comunque del portiere della Sampdoria ma se lo meritava secondo me migliori in campo insieme al nostro maignan il nostro portiere una splendida partita si è preso sulle spalle il 10 ha fatto vedere veramente tante tante belle cose Giroud poche occasioni a parte quella che poi gli hanno fischiato il fuorigioco ma molto molto bene molto peso davanti teneva palla faceva salire ha preso tante di quelle botte peggio di un incontro di box però ragazzi è il lavoro sporco che deve fare ogni tanto un attaccante anche se non segna segnano gli altri magari quella partita però ci vuole anche quel tipo di lavoro molto molto bene ragazzi in difesa centrale più che altro Kier noi secondo me abbiamo uno dei più forti difensori centrali in questo momento insieme a Tomori Kier veramente tanta tanta roba il muro danese molto molto bene leao gli chiedo scusa glielo ho chiesto scusa anche ieri per tutte le parolacce che ogni tanto li tiro dietro ma ieri ha fatto molto bene un grande Sandro Tonali molto bene nel primo tempo in crescita nel secondo tempo ha smistato tanti palloni tanta tecnica tanti contrasti viti quindi molto molto bene anche lui se dobbiamo dare un voto negativo se voglio andare a vedere chi non è affatto bene da rivedere Teo Hernandez secondo me peggiore in campo partita da 5 secondo me tanti errori in fase difensiva anche errori banali non si propone mai in avanti poche volte poche volte ma comunque sterili non ha non ha fatto niente di che errore molto molto grave al posto di andare sull'esterno va sull'interno regalando il pallone al giocatore della Sampdoria che grazie a Mike Magnan ci salviamo il se no era uno a uno perché l'attaccante della Sampdoria si trova solo davanti al portiere quindi errore gravissimo da rivedere però ragazzi è la prima di campionato quindi ci può stare ma voglio andare al succo del discorso cosa cacchio avrà mai detto Maldini di così preoccupante su Franchesi prima della partita Paolo Maldini viene intervistato da Sky e tra le tante domande che gli vengono fatte salta fuori la domanda sul rinnovo di Franchesi e giustamente lui deve rispondere e qual è la frase che ha spaventato i tifosi rossoneri lui dice il calciomercato è così bisognerà sedersi a tavolino e trattare per l'ennesima volta perché sono già cinque volte che si siede a tavolino per trattare e ancora qua non si conclude niente poi dice noi abbiamo una linea per tutti quanti e per tutti uguale sia negli acquisti sia nei rinnovi abbiamo una linea precisa non possiamo andare oltre le nostre forze oltre i nostri sforzi e questa è stata la frase che ha fatto spaventare i tifosi rossoneri cosa ha lasciato intendere non lo so ragazzi questa storia di Franchesi un po mi puzza non ci sto capendo più nulla perché bisogna capire se il Milan questo sforzo veramente l'ha fatto perché noi non siamo dentro il Milan non possiamo sapere se veramente l'offerta dei 5 e mezzo 6 milioni è arrivata e loro chiedono di più oppure se questa offerta è arrivata veramente da 6 milioni ma a Tangana e Franchesi ne chiedono 6 e mezzo 7 non lo so ancora questo ma le parole di Maldini sono state molto molto chiare la linea uguale per tutti abbiamo trattiamo tutti allo stesso modo non si può andare oltre i nostri sforzi oltre le nostre forze e queste parole ragazzi hanno spaventato perché sappiamo tutti che perdere un altro giocatore a zero sarebbe una tragedia soprattutto uno come Franchesi sarebbe un putiferio ragazzi sarebbe un putiferio io non ci credo che alla fine Franchesi non rinnova penso che il Milan farà un altro sforzo io credo all'offerta del Milan di 5 e mezzo che si avvicina ai 6 non riesco ancora a capire perché che sì allora a questo punto non ha rinnovato mi vengono tanti tanti dubbi in testa si sono già seduti a tavolino 4-5 volte le parole di Chessi erano amore per il Milan rinnova appena torno ma il rinnova ancora non c'è stato e quando si fanno queste interviste saltano fuori queste parole soprattutto dai dirigenti rossoneri la paura sale sempre di più di perdere un altro giocatore a zero vedremo ragazzi nei prossimi giorni nel frattempo arriva ragazzi mi stavo dimenticando arriva Pellegri mentre il Milan stava giocando a Genova Pellegri atterrava a Linate quindi è arrivato Pellegri e in settimana arriverà sicuramente Baccaio Co siamo vicinissimi questa settimana fuochi d'artificio ragazzi a casa Milan ci vediamo al prossimo video iscrizione al canale fatemi sapere tutto quello che pensate sotto nei commenti ciao